Dopo il successo in tutto il mondo, Shark Tank arriva anche in Italia. Cinque grandi investitori decideranno se finanziare i progetti presentati da vari imprenditori. Ecco il primo candidato. Questo qua è dove arriva? Questo mio. Allora, giovane, cosa ci propone una morto di fame? Facci vedere il progetto. Allora, io vi propongo un aggeggio ingegnoso che servirà a custodire i vostri beni. Eccolo qua. Guardate che bello. Mi piace, eh? Per questa roba qui, quant'è che vuoi? Io per questo prodotto chiedo la radice quadrata di una somma onestissima che è un milione, ovviamente, al cubo. Uè, ma quale radice è radice? Te lo ho, quale tu vuoi conto? Dove passo io non cresci manco più l'erba. Error! Esce sempre error! Ma cap'è parità. Scusa, ma lei ha considerata l'attualizzazione dei tassi spot? Ha chiesto più di 3 milioni di euro, uè. Ma stiamo scherzando. Allora, stiamo a sentire. Uè, tutti questi soldi da noi è piccolo. Tutta la notte, coca e mignote, tutta la notte, coca e mignote, tutta la notte, coca e mignote. A me questi soldi servono perché ho uno zio drogato per mi aiutare. L'idea sarebbe pure buona, ma noi con la catena non ci rendiamo d'accordo, quindi mi chiamo fuori. A voi. Eh, milione di euro per una cagata del genere? No, mi tiro fuori. Beh, peccato, eh, perché io ti avrei anche finanziato, ma ad un'unica condizione. Tutta la notte, coca e mignote, tutta la notte, coca e mignote. Ogni storia racconta qualcosa di noi. Parzari, di origini turche, è arrivato alla sua invenzione dopo aver tirato le somme della sua vita. Vediamo se gli shark riusciranno a coglierne le sfumature. Il turco lo conosco, ha fatto qualche servizietto per noi, è un bravo il turco. Ah, no, turco, cosa ci proponi? Questa mia invenzione rimpiazzerà il bagaglio a mano. Si chiama Smart Boost e per questo vi chiedo 100.000 euro per il 10%. Uè, bravo, mi hai convinto, 100.000 euro! Uè, uè, questa è roba mia, 200! 100!000 euro per il rilancio un milione, ci credo, nelle buste, io un milione! Non ci posso credere, mi hanno offerto un milione per la Smart Boost. Ma qua c'è a matti, lo mettiamo fuori. È mio, è mio allora, te! Dopo il grande investimento della ditta El Pelado, ecco il prossimo candidato. Uè, guarda che culo, già le vendono le buste lui. Mado, che colpo, Mado, lo sapevo che il progetto prendeva a piede subito. Guardate che questo non è il mio progetto, questa me l'hanno regalata al supermercato ogni 10 euro di spesa. Ma come il regalo con 10 euro di spesa? Ho speso un milione di euro!